Donington, uno dei circuiti più emozionanti della superbike. Per me, come molti addetti qui sempre in movimento, una banca a portata di click. Hello Bank è la banca di BNL nata digitale. Si può entrare in Hello Bank da computer, tablet o smartphone e fare tutto con semplicità. E grazie a Hello Money il conto corrente a zero spese valorizzi anche i tuoi risparmi. Hello Money infatti è il conto a canone zero con un bancomat gratuito e prelievi gratuiti in tutto il mondo. In più, un tasso senza vincoli fino al 2%. Per chi apre adesso un conto online Hello Bank, fino al 18 giugno in regalo un abbonamento a Run Superbike di Misano, con accesso al paddock incluso. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Hello Bank, in movimento, come te. By BNL, gruppo Benpe Paribas.